Oggi siamo a oltre i 1800 metri sul livello del mare, sul Monte Azugna, una panoramica a 360 gradi. Adesso saliamo ancora di 60 metri. Ora la mia cagnolina a sprestarmi a Ririm. Panoramiche, viste dalla cima di Monte Azugna, la Valla Galina verso il sud, verso Verona, purtroppo c'è la foschia. La mia cagnolina a sprestarmi a Ririm, la mia mascotte, quella che vediamo sullo sfondo è la cima, che vado adesso, 1.890 circa.